Andate via, andate via! Dicono che la famiglia sia il nostro punto di partenza, poi di fuga, e alla fine diventi quello di ritorno. Stanno arrivando! Per le loro nozze d'oro, i gneci hanno voluto riunire tutti. Era stato organizzato per stare bene tutti insieme, come quando eravamo bambini. Hanno sospeso i draghetti! Anche voi dormite qua stanotte? No. Anche tu? Non abbiamo tutti qua. No, 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 no! Oggi andiamo! Tu non peco il nome! Non ti ci vogliono proprio più vedere in quel cazzo di ristorante, perché sei troppo strusso, va boh! Che te guarda qua? Io sono cresciuto orfano! A me la famiglia mi sta sul cazzo! Ma c'è stato o no? Ma no, non c'è stato niente! Lo sapete che non sta bene? Non è nata quella! La vita è un gran casino. Totale!